A dimostrare il fallimento del reddito di cittadinanza sono i numeri. 400.000 sono coloro che ricevono il sussidio e possono lavorare. Dall'altro lato, le aziende cercano 500.000 lavoratori. Secondo uno studio, più della metà di coloro che percepivano il reddito e che avevano ricevuto un'offerta di lavoro, l'hanno rifiutata. In Senato ho chiesto al Ministro del Lavoro Calderone e al Governo di agire affinché il sussidio non vada a chi non vuole lavorare. A gennaio 2023, grazie al potenziamento dei controlli degli uomini e delle donne e delle forze dell'ordine, che ringrazio, sono state rispinte oltre 46.200 domande, revocate quasi 8.000 prestazioni, mentre altre 14.700 pratiche sono decadute. La vera sfida non è dare il reddito per spingere i cittadini a stare a casa sul divano, ma al contrario, dare lavoro.